Siamo qui al porto di Baia per questa campagna elettorale di Giosi Gerardo della Ragione, per i campi preguei, tutti per Giosi, per questo simbolo che vedete qui, liberi e uguali. Allora Giosi, è cominciata la campagna elettorale a Arco Felice, adesso siamo più dentro i bacoli con il porto di Baia. Sì, stiamo toccando tutti i comuni del collegio che vanno da Marano ad Ischia, stamattina siamo stati alla marcia per la legalità contro ogni forma di violenza a Monteruscello con tantissimi studenti, questa sera siamo a Baia, il titolo di questo comizio, di questo convegno vuole essere dal turismo al lavoro. Quante volte i comuni si sono mascherati dietro la sovrintendenza per dire i beni archeologici sono chiusi perché è colpa loro, perché è colpa del sovrintendente, perché è colpa di altro. Bene, i sovrintendenti e la sovrintendenza sono un dipartimento del Ministero della Cultura. Attraverso il Parlamento, una presenza in Parlamento, possiamo finalmente mettere scacco matto a questa idea che i nostri tesori archeologici sono chiusi, non creano ricchezza, non creano lavoro e non creano occupazione. Vogliamo andare lì per ricordare al Parlamento italiano che esistono i campi flegrei, che da qui possiamo creare ricchezza, che da cui i giovani non devono più scappare e che soprattutto i nostri monumenti, che sono bellissimi, meravigliosi, devono essere aperti, visitati o pieni, ricchi di turisti che devono portare ricchezza nel nostro territorio. Da Ischia con il turismo termale, a Pozzoli, Bacoli, Monti di Procia, con quello archeologico, sino a Quarto e Marano. Quindi un unico sistema flegreo che possa essere messo a reddito per creare ricchezza e lavoro per tutti. E qui nei campi flegrei, proprio a Baia, abbiamo il massimo del top, perché solo Roma e a limite Pompei possiamo paragonare a Baia. Se teniamo conto della città sommersa di Baia, già superiore a qualsiasi altra realtà, abbiamo un castello aragonese che è più chiuso che è aperto, un museo archeologico dei campi flegrei che è fondamentalmente chiuso. Noi chiediamo la riapertura delle sale museali e lo chiediamo direttamente, questa volta andando in Parlamento, andando a bustare al Ministero della Cultura, che deve ricordarsi che esiste Sorrento, esiste Capri, esiste Pompei e Napoli Centro, ma esiste soprattutto campi flegrei. Quindi portare lì una voce del territorio, mi conoscete da dieci anni come consigliere comunale, sindaco, attivista, sono stato al servizio di questa terra e oggi voglio continuare ad esserlo portando la vostra voce, la rabbia dei giovanissimi che sono costretti a scappare via e la rabbia dei genitori e dei nonni che vedono i loro figli lontano soltanto in cartolina, portarla in Parlamento per continuare a cambiare le cose. Forza Campi Flegrei!